Togliti i pantaloni. Lee, non farlo. Non preoccuparti, Charlie. È soltanto un'ultima piccola fantasia. Te lo assicuro. È molto difficile per me smettere completamente. Lasciami indulgere in questa ultima piccola fantasia. Togliti i pantaloni. Vieni più vicino. Più vicino. E ora prendimi. Vieni. 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 Pronto, polizia. Sono lì, Adams. Quell'uomo è tornato. È tornato e ha cercato di violentarmi di nuovo. No. No. Oh mio Dio. L'ho ucciso. È morto. Sì. Va bene. Non posso crederci. È orribile, ho ucciso un uomo. Sì, calma. È entrato in casa sua e stava per aggredirla. Ha avuto quel che si meritava. Sì, signore, è il nostro uomo. Ero sicuro che ci fosse sotto qualcosa. Come dire, era sconvolto, disperato, capisce? Quando gli ho offerto la parte, era diverso dal solito. Sembrava molto cambiato. Lo credo, aveva ucciso un uomo. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure ora sembra che tutto abbia un filo logico. Charlie era come quei megalomani che sparano al presidente solo per finire in tv. Certa gente dovrebbe stare in manicomio. È indubbiamente un caso da mano male. Eh, ha ragione. Guarda qui, quel tipo doveva essere completamente pazzo. Ci siamo. Green Falls, Indiana. Io non so' nada, Dave. Non lo conosco pieni. Soprattutto ha dei muchos dias che non lo veo. Non so' nada. No, è fiato sprecato. Non parla una parola della nostra lingua. Già, se solo che trabaccava a porre la televisione, era un tipo a mui estraneo. Signore, abbiamo le informazioni dalla polizia distrettuale sull'auto. Era rubata e risultano rubate anche le targhe, sono di un'altra macchina. Non si preoccupava di essere scoperto. Qualche giorno fa ha persino preso una multa per sosta vietata. Aveva parcheggiato di fronte allo studio della dottoressa Adams. Evidentemente la teneva d'occhio. Dal laboratorio niente. Il test sul liquido seminale conferma che si tratta di lui. Julia Rollins, la prima vittima, lo ha identificato, anche se il volto è sfigurato. Proprio dalla parte della cicatrice X, lei dice di esserne sicura. Abbiamo tutte le prove ormai. Il DNA conferma che si tratta di lui. Quindi è davvero tutto finito? Lo stupratore di Moncler Irs è morto, dottoressa Adams. Può tornare alla sua vita. È tempo di ricominciare. Lo so. Grazie. Grazie davvero. Il traffico era impossibile. Leslie è qui? È nel suo studio. Io adesso vado, d'accordo? Sì, buona serata. È tutto finito, tesoro mio. Grazie. 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 Grazie.